Tom Selznick Il pianista più brillante della sua generazione è tornato Il nuovo Rachmaninoff, se non soffrisse di panico Non si possono suonare questi pezzi senza sbagliare qualche nota? Qual è il problema? Sbaglia una sola nota e morirai Le ultime quattro battute del pezzo ineseguibile Suonale alla perfezione per la prima volta nella tua vita E uscirai d'acqua e vivo Se sbagli una sola nota, morirai Che cosa vuoi da me? Abbandona il palcoscenico e lo vedrò Chiedi aiuto e lo sentirò Fa una qualunque di queste cose e ucciderò tua moglie Emma Adesso sai davvero cos'è l'ansia da palcoscenico? Come ci si sente? Non lo so ritoccarla! Non mi deludere, Tom Non so ritoccarla! Non so ritoccar